Dunque play-out annullati dall'oggi al domani e play-off confermati senza aspettare neanche l'appello. Così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Avrei atteso la sentenza di secondo grado, ma è nelle prerogative della Lega di B dare seguito ad una sentenza esecutiva e proseguire con i play-off. Sui play-out invece mi sembra che il direttivo della Serie B non abbia competenza in materia. Sarà dunque motivo di approfondimento nel Consiglio in programma giovedì 16 maggio. Ne abbiamo parlato con l'esperta in materia, l'avvocato Flavia Tortorella. E' così? Allora, a livello astratto è così, nel senso che tutte le sentenze di primo grado della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive. Questo vuol dire che se c'è un'inibizione, l'inibizione parte dal momento della decisione di primo grado. Se c'è un'esclusione, l'esclusione avviene nel tempo della sentenza, quindi in primo grado. E' vero però che c'è un secondo grado che si svolgerà in via d'urgenza e quindi in un tempo molto ristretto. E quasi sempre abbiamo atteso i verdetti quantomeno dei giudici endofederali. Magari il collegio di garanzia poteva essere un grado di giudizio eventuale e quindi comunque al di fuori dell'ordinamento federale e quindi non si aspettava il verdetto del collegio di garanzia. Diverso è nel caso del verdetto di appello che è comunque un giudice federale e quindi voglio dire almeno gli organi della federazione dovrebbero attendere il verdetto dei propri giudici. Questo con grano salis. La domanda è questa, del tifoso della strada, dell'appassionato di calcio. Se il secondo grado dovesse dare ragione al Palermo potremmo dire abbiamo scherzato? Perché bisognerebbe rifare tutto? Allora a mio avviso bisognerebbe intervenire in questo momento. Non si può aspettare l'esito del Palermo. Le società interessate a questa operazione che è stata effettuata al loro danno devono intervenire immediatamente e tutte insieme a mio avviso. Quindi perché è evidente che non si può prestare qui a scienza ad una delibera come quella che è stata varata dal Consiglio di Lega di B. Dall'altra parte, come anticipavi tu, il verdetto di secondo grado potrebbe cambiare le sorti di tutto, ma è evidente che bisogna fare qualcosa nell'immediato. Perché è vero che potrebbe cambiare, ma è anche vero che abbiamo avuto anche l'anno scorso testimonianza del fatto che a volte le sentenze non vengono rispettate. E quindi se dovesse accadere, come il caso nell'Entella, l'Entella ha avuto un giudizio a sé favorevole che non è stato eseguito. E quindi c'è bisogno non solo di una sentenza favorevole, ma anche di qualcuno che sia disposto ad eseguirla. Diciamo che i play-off si giocheranno e questo è certo, l'ha fatto capire anche Gravina. Del resto si torna in campo già da venerdì col primo turno preliminare. Tra l'altro è una situazione molto vantaggiosa per il Pescara perché accede direttamente alle semifinali play-off e questo ci fa enormemente piacere. Ma il Palermo potrebbe chiedere anche la sospensiva? Assolutamente sì, potrebbe chiedere un provvedimento cautelare d'urgenza e, ne ravviso a miei presupposti, alla Corte federale d'appello che potrebbe concedere una sospensione della sentenza del Tribunale e quindi in questo caso il Palermo sarebbe dentro. Bisogna vedere se i presupposti ci sono per ottenerla. I presupposti della concessione della misura cautelare anche nell'ordinamento sportivo sono quelli dell'ordinamento generale e quindi il periculum in mora, che è il periculum c'è perché il Palermo è stato un retrocesso d'ufficio, dall'altra il FUMUS che sarebbe il buon diritto dell'istante, quindi sicuramente ci deve essere ad una somma dell'ibbazione del merito la fondatezza delle argomentazioni del Palermo. Allora lì il giudice può concedere una misura cautelare. È evidente che però nonostante, ripeto, ci potrebbe anche essere una sospensiva, una concessione della misura cautelare da parte della Corte, ma io ricordo a me stessa che ad oggi è uscito un comunicato con le quattro retrocesse. La domanda vera è come si concilia questo comunicato definitivo sulla graduatoria e quindi sulle retrocesse con un'eventuale sentenza di un giudice federale che statuisca il contrario. Il nodo è questo. Invece per quanto riguarda il Foggia, secondo te la più possibilità di partecipare ai play-out, ha dichiarato testualmente il Presidente federale, sarà motivo di approfondimento nel Consiglio federale di giovedì? Beh, me lo auguro, posto e considerato che a mio avviso è più grave ciò che sta accadendo in fondo alla classifica come mancata disputa dei play-out, perché naturalmente il Foggia ha un giudizio pendente davanti al collegio di garanzia, tra parentesi incartato prima che avvenisse tutto questo. Quindi adesso arriverà una sentenza che a mio avviso anche con ampi margini di successo potrebbe restituire qualche punto al Foggia e se questo accade, naturalmente il Foggia potrà rivendicare la sua posizione in classifica. Questa è un'operazione che ha una serie di difficoltà intrinseche e estrinseche, che avrà degli effetti deflagranti. Da dove la guardiamo ha un effetto, quindi ci sarà un proliferarsi di ricorsi come l'anno scorso. Quindi se venerdì il CONI dovesse restituire almeno un punto, perché il Foggia chiede la restituzione di due punti, ma almeno un punto è sufficiente per agganciare la Sarnitana, come ricordavi poco anzi tu, c'è poi lo scontro diretto a favore, quindi il Foggia sarebbe avvantaggiato a pari punti con la Sarnitana. Che cosa succederebbe? Verrebbe riscritta di nuovo la classifica? Non si potrebbe riscriverla la classifica, perché naturalmente se oggi è uscito un comunicato federale con il quale vengono definite quali sono le retrocesse, su questo non ci si può. Però è pur vero che fortunatamente ci sono ampie possibilità giuridiche di argomentare questi argomenti e utilizzare degli strumenti, naturalmente tutti di tutela parentetica, quindi affidati ai cautelari, attraverso i quali comunque si può cercare di rimettere in sesto quello che evidentemente è stato violato. Dopo tutto quello che è successo, c'è un altro scenario, potrebbe essere commissariata la Lega? Beh, allora, se la Federazione Italiana Gioco Calcio ritiene e dovesse ritenere che l'operato della Lega di B sia contrario alla normativa federale e quindi ai principi di democrazia interna, sicuramente davanti al dinieco della Lega di B di fare un passo indietro, l'unica possibilità della Federazione sarebbe quella di commissariare la Lega. Su una cosa siamo d'accordo, qui il problema è legato alla giustizia sportiva, secondo me è totalmente da rifondare perché non si può aspettare la fine di ogni campionato per capire chi è dentro, chi è fuori, sei d'accordo o no? Sono parzialmente d'accordo, nel senso che è anche un problema di giustizia sportiva, sicuramente d'altronde c'è una riforma che stiamo aspettando e quindi evidentemente andava riformata, va riformata. Dall'altra parte a mio avviso c'è anche un problema di commistione di interessi politici e di giustizia per cui devo dire che fino a quando la politica federale non riesce a stabilire un limite entro il quale poter gestire la politica stessa e quindi partendo dal rispetto dei propri giudici federali noi avremo sempre un campo aperto dove ci si potrà scontrare su qualunque argomento e su qualunque questione perché non conosciamo il limite del rispetto delle sentenze dei giudici sportivi. Quando cominceremo a rispettarle probabilmente sapremo anche gestire meglio le relazioni di tutti. Insomma c'è conflitto di interessi, potremmo sintetizzare così? Non so se c'è un conflitto di interessi, spero di no. Io sintetizzo proprio con il dire che da una parte la giustizia sportiva deve crescere e deve darsi credibilità perché l'anno scorso ne abbiamo persa parecchia di credibilità e quindi dobbiamo recuperare quella credibilità sperando che rendendo più credibile la giustizia sportiva i soggetti che ruotano attorno al mondo sportivo comincino ad aver voglia di rispettarla. Anche perché insomma quello che è successo la scorsa estate evidentemente non ha insegnato nulla perché forse ci siamo tutti illusi che magari sarebbe cambiato tutto in realtà siamo tornati proprio alle origini. Beh mi verrebbe da dire che qualcosa forse a qualcun altro ha insegnato perché la violazione delle regole non sempre porta al risarcimento del danno.